Cinque momenti sarà una sorveglianza tramite un drone delle casse d'espansione sul Castro, ipotizzando uno scenario estremo, necessitante quindi di una sorveglianza remota. Sarà un soccorso di una persona in difficoltà nel greto di un torrente, sarà una ricerca di dispersi, sarà appunto una simulazione di allagamento di un sottopasso e infine il censimento di una popolazione rimasta isolata. Questi cinque momenti attraverso i quali si strutturerà l'esercitazione di protezione civile che interesserà alcune zone della città di Arezzo sabato 26 novembre dalle 9 alle 12 che andrà a rappresentare uno scenario di rischio idrogeologico ed idraulico. Praticamente la previsione ripete quello che purtroppo è accaduto nella realtà la domenica del 6 di novembre e quindi questa esercitazione potrà essere utilizzata quanto mai per un debriefing, come per valutare meglio quello che è stato fatto e quindi capire se ci sono degli accorgimenti sulle modalità di comportamento di tutti gli attori, cioè di tutti coloro che sono intervenuti in questa fase di superamento di questa emergenza e migliorare la nostra azione. A fianco dell'amministrazione della protezione civile ci sarà anche la Croce Rossa, in che modo? Indubbiamente la Croce Rossa sta collaborando con l'amministrazione comunale, sarà presente con i volontari, numerosi saranno 25-30 persone, con i mezzi soprattutto, perché poi bisogna verificare certi protocolli di intervento, perché ogni tipologia è diversa dall'altra, quindi noi in questa esercitazione metteremo a punto dei protocolli da attuare velocemente quando si presenteranno vari tipi di situazioni.